La riabilitazione è molto importante nei pazienti parkinsoniali, ne abbiamo parlato con il professor Abruzzese a Bari in occasione della seconda edizione del congresso Limpedismo. Professore, quali sono le tipologie di riabilitazione adottate nel Parkinson? Si parla di fisioterapia ma anche di terapia dell'umore, ci spieghi meglio. La riabilitazione è sicuramente estremamente importante nella malattia di Parkinson perché è un elemento che si aggiunge alla terapia farmacologica per ridurre i disturbi dei pazienti e migliorare la qualità della vita. Ci sono diversi approcci riabilitativi basati soprattutto su esercizi di tipo aerobico e finalizzati a quelli che sono i problemi principali del paziente, quindi equilibrio, cammino, eccetera. Ma più recentemente sono state sviluppate anche delle tecniche che combinano l'aspetto motorico e l'aspetto cognitivo. Quindi per esempio tecniche basate su realtà virtuale, su esercizi di questo tipo che si sono dimostrate in grado non solamente di migliorare le condizioni fisiche ma di migliorare anche la capacità del paziente di apprendere, la sua concentrazione e attenzione. Tutto questo ha delle ricadute positive sulla qualità di vita dei pazienti e quindi spesso migliora anche gli aspetti depressivi e quindi anche il tono dell'umore. Ci sono anche delle terapie innovative, abbiamo sentito parlare di miglioramento working memory su cui sono stati fatti anche degli studi italiani. Di cosa si tratta? Sì, dunque uno dei problemi che hanno i pazienti parkinsoniani è quelli che riescono ad apprendere nuovi interventi, nuovi esercizi e così via ma tendono ad avere difficoltà a memorizzarli. Quindi queste tecniche appunto combinate di riabilitazione con esercizi che richiedono anche un feedback da parte del paziente e quindi attenzione e richiamo della memoria migliorano la capacità di memoria di lavoro, quella che si chiama appunto working memory dei pazienti e quindi tendono a far sì che il beneficio indotto dall'esercizio duri più a lungo e possa essere mantenuto più a lungo nel tempo dal paziente. La Limpea in essere è un progetto sulla qualità della vita dei pazienti e dei loro familiari perché chiaramente è una malattia che impatta anche molto sul nucleo familiare. In che cosa consiste? Quali aggiornamenti ci sono? Ma dunque allora questo è un progetto che abbiamo disegnato per l'appunto cercando di raccogliere dei dati su come la malattia compromette la qualità della vita del paziente ma anche del caregiver quindi del familiare o la persona che si fa carico del paziente. Quindi c'è una serie di questionari di scale cliniche che vengono somministrati sia al paziente sia al familiare che lo accudisce. Questo è uno studio multicentrico, è prevista la partecipazione di oltre 40 centri italiani alcuni dei quali ancora sono in attesa dell'approvazione del comitato etico però lo studio è già partito in 25 dei 40 centri quindi sono stati raccolti già i primi dati su circa una cinquantina o un centinaio di pazienti ma il target finale è di avere dati su almeno 500-600 pazienti e i loro caregiver che ci potranno aiutare a comprendere quali sono gli aspetti che influenzano maggiormente la qualità della vita del paziente oppure che rappresentano un carico pesante per chi se ne lo accudisce, quindi il familiare o il cosiddetto caregiver.